Allora l'avete sentito, un appalto su tre è truccato, continuamente si scopre che un contribuente su quattro evade, gli imprenditori dichiarano meno dei loro operai e l'80% delle tasse le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati che infatti sono sempre più incazzati, ma niente paura perché adesso il governo Renzi ha trovato una soluzione geniale, vietare alla stampa di pubblicare le intercettazioni dei non indagati, che è un'idea geniale, l'ho detto ma non è troppo originale perché è una vita che ci provano, ci aveva provato il centro-sinistra con Mastella, poi il centro-destra con Alfano, non c'erano riusciti e allora i giornali parlavano di bavaglio. Adesso che ci prova Renzi, quello che doveva rottamare la vecchia politica e che sta invece completando l'opera che gli altri governi avevano lasciato a metà, allora non si parla più di bavaglio, ma è sempre la stessa cosa. Questo bavaglio lo chiede anche Alfano, che è molto coerente, ricordate che con la scusa del terrorismo voleva mettere il becco con la polizia nelle nostre email e nei nostri sms per far sapere ai politici quello che noi ci diciamo, mentre invece noi non possiamo più sapere quello che si dicono i politici. Per lui è una questione o di vita o di morte, l'avete visto l'NCD dopo il caso Lupi è sceso nei sondaggi al 2,2%, escono un altro paio di intercettazioni e finisce sotto zero praticamente, quindi è meglio chiudere i rubinetti. E poi lo chiede anche il PD, le intercettazioni dell'inchiesta di Napoli hanno svelato i rapporti tra i mazzettari di varie imprese, tra cui una cooperativa, quella della Concordia, e politici di destra e di sinistra, vecchia guardia tipo D'Alema e nuova guardia con finanziamenti anche al PD ultimo, il PD di Renzi, e scrivono i carabinieri il canale privilegiato della Coop Rossa con Renzi e i suoi fedelissimi, tipo il sottosegretario Lotti, quindi si erano ben sistemati anche con il nuovo che avanza. D'Alema si è messo subito a strillare, è una vergogna, non sono indagato perché i giudici hanno infilato il mio nome negli atti, devono intervenire la NM, il CSM, l'ONU magari, i caschi blu, arriveranno anche loro. In realtà D'Alema negli atti ci è finito, non perché i magistrati volessero sputtanarlo, ma perché parla di lui l'arrestato numero uno, che è quel Francesco Simone, ex socialista, manager della cooperativa Concordia, che risulterebbe, come abbiamo sentito, addirittura in affari, con uno dei più feroci clan camorristici, il clan Jovine, diceva nelle sue conversazioni, noi dobbiamo investire sui politici che mettono le mani nella merda, ed è lì che citava D'Alema, che invece di querelarlo se la prende con i magistrati che hanno trascritto la telefonata, ma l'hanno trascritta perché dimostra l'atteggiamento che questo presunto corruttore aveva verso i politici, pensate che figura meravigliosa avrebbe fatto D'Alema se avesse rifiutato i suoi soldi, e invece la fondazione italiana e europea gli ha addirittura chiesti, D'Alema ha chiesto anche di comprargli 2000 bottiglie del suo vino, e l'altro già che c'era gli ha comprato pure 500 copie del suo ultimo libro, D'Alema forse si illudeva che fosse perché la cooperativa apprezzava il suo Pinot e il suo best seller, e invece no, quelli investivano su di lui perché era candidato a fare il commissario europeo, e lo usavano un po' come testimonia, lo portavano in giro come la Madonna Pellegrina alle convention elettorali proprio a Ischia per fare meglio i loro affari. Dovrebbe ringraziare insomma i magistrati e le intercettazioni anche perché hanno dimostrato che lui non c'entrava niente, tutto ciò avveniva a sua insaputa e magari adesso che lo sa eviterà di frequentare quella gente, magari restituirà pure i soldi, chi lo sa, finora l'ha fatto solo la Meloni, però non poniamo limiti alla providenza. Ma non c'è solo D'Alema e Alfano a chiedere il bavaglio perché sentite questa frase che è di notevole spessore. Non tutto ciò che è di interesse del pubblico è necessariamente anche di pubblico interesse. Uno dice sarà una frase di Schopenhauer o di Catalano o del Mago Telma o del Conte Mascetti, quello della supercazzola invece no, è di Antonello Soro, garante della privacy, anche lui del PD e guarda caso ha subito chiesto al governo di intervenire sulle intercettazioni e lui, devo dire, di privacy se ne intende. Infatti è primario di dermatologia, quindi l'uomo giusto al posto giusto perché sapete come sono i dermatologi, sono tutto il giorno lì con le mani sulla pelle dei pazienti e poi non è che lo vanno a raccontare in giro che il loro paziente alla scabbia o alla dermatite o all'orticaria, all'ezema, il foruncolo, il brufolo, l'herpes, il pidocchio, eccetera, eccetera. Apposta lo hanno fatto garante della privacy perché è molto riservato, solo che non ha ben chiara la distinzione tra un foruncolo e un'intercettazione, per cui se la prende con quello che lui chiama il giornalismo di trascrizione, cioè se io trascrivo un'intercettazione vera, proprio realmente accaduta, dove parlano un indagato e un non indagato e la gente magari se la legge perché le interessa, ecco al garante della privacy dermatologo gli vengono le bolle proprio sulla pelle. E infatti dice questo è un processo mediatico, questo è wireismo, si chiamerebbe in realtà cronaca giudiziaria che esiste in tutto il mondo, lui però non lo sa, infatti chiede al governo una legge per un'adeguata selezione delle notizie da diffondere, come se fosse il minculpop reincarnato o se stesse semplicemente asportando un'unghia incarnita. Forse non lo sa che violare la privacy è già vietato dalla legge, dal 96, quindi da 18 anni, ed è la legge sulla privacy. E chi deve denunciare le violazioni della privacy alla magistratura, lui il garante, è strano che non conosca proprio la sua di legge. Già che ci siamo gli diamo anche un'altra notizia, è già pure vietato pubblicare atti segreti, quindi non c'è bisogno di una nuova legge che vieti di pubblicare atti segreti, è già vietato, basta vietare una volta. La verità qual è? È che nel 99% dei casi i politici che vengono presi col sorcio in bocca e che strillano alla privacy e al segreto, non sanno di che parlano perché in quei casi non c'è né la privacy né il segreto. Tant'è che negli ultimi 20 anni le uniche intercettazioni che hanno violato la privacy di qualcuno sono due. Uno è il famoso, famoso si fa per dire, sms di Anna Falchi che mandava un bacio a Stefano Ricucci, sai che notizia la moglie che manda un bacio a suo marito. E l'altra è la telefonata dove il figlio di Moggi portava a Parigi Ilaria D'Amico sul suo aereo privato, tra l'altro pare che poi sia pure andato in bianco. Ecco queste sono le due gravissime violazioni di questi 20 anni. Il segreto, quando è segreto? Quando l'atto non è ancora conoscibile dall'indagato, ma il grosso delle intercettazioni e degli scandali di questi anni era notissimo agli indagati, tant'è che le intercettazioni stavano sempre dentro le ordinanze che vengono consegnate all'indagato e all'avvocato quando vengono arrestati o quando vengono perquisiti. Quindi più pubbliche di così si muore. Adesso il garante e il governo dicono che i giudici devono mettere negli atti solo le intercettazioni penalmente rilevanti e non tutte le altre, così i giornali non le trovano più e non le possono più pubblicare. Ma lo sapete che fine fanno le altre, quelle penalmente non rilevanti? Non è che spariscono. Vengono custodite in cassaforte, poi si fa un'udienza davanti al GIP e il PM dice al GIP a me non servono, quindi distruggile pure. Il GIP che cosa fa? Non può mangiarsele o bruciarle se prima non le ha fatte sentire agli avvocati chiedendo vedi mai che se non servono al PM magari servano a voi per difendere i vostri clienti. Così gli avvocati che cosa fanno? Se le ascoltano, se le fanno trascrivere, se ne fanno una copia, da allora non sono più segrete e quindi i giornali le possono pubblicare. Quindi cari politici, rassegnatevi o arrendetevi proprio, perché? Perché non ve l'ha ordinato il medico di fare i politici. Se lo fate avete tanti onori e li conosciamo e avete anche qualche onere. Quindi dovete stare attenti a chi frequentate e con chi parlate e soprattutto a quello che fate e a quello che dite, perché se fate o dite qualcosa di immorale o di scorretto, anche se non è reato, è peggio per voi. Se vi beccano non c'è bavaglio che tenga e prima o poi la notizia viene fuori ed è giusto così, perché la gente ha il diritto di sapere. L'ultima trovata per cercare di chiudere il rubinetto l'hanno avuta tutti e due i vice segretari del PD, la Serracchiani e Guerini, che hanno avuto un'altra idea geniale. Hanno detto, ma se elevassimo dagli atti tutti i riferimenti ai non indagati? Quindi proviamo a immaginare, no? Tizio, che è un noto mazzettaro o mafioso, quindi indagato e intercettato, parla al telefono con Caio, che non è indagato ma è un suo amico, no? E cosa dovrebbe fare il magistrato? Cancellare una frase sì e una frase no. Pensate alla fine come viene la trascrizione della telefonata dimezzata, no? Proviamo a immaginarlo. Sì, certo, come no, hai voglia. Ecco, magari l'altro, il non indagato, stava facendo le domande, cioè gli stava chiedendo, ma l'hai presa tu la mazzetta? Ma ce l'hai un conto in Svizzera? Tua moglie l'hai ammazzata tu? L'hai detto a qualcuno? Noi sentiamo solo le risposte perché le domande sono quelle del non indagato e quindi devono rimanere segrete, altrimenti è giornalismo di trascrizione e il garante, come abbiamo sentito, preferisce il giornalismo di omissione. Pensate che sarebbe successo se questa norma fosse già stata in vigore anni fa. Non avremmo saputo che gli imprenditori ridevano a crepapelle e brindavano la notte del terremoto dell'Aquila, per esempio, perché ridere e brindare non è reato. E non sapremmo neppure un sacco di cose su calciopoli, per esempio. Magari quelle cose che erano indecenti ma non erano reato. Tipo Moggi che si vantava al telefono di avere chiuso a chiave l'arbitro Paparesta nello scabuzzino, no? Per fortuna si era saputo subito, così qualcuno si affrettò a chiamare Paparesta per sincerarsi che fosse tornato a casa. E si scoprì che almeno su quello Moggi aveva raccontato una frottola. Se fosse stato vero e fosse stato in vigore il bavaglio, nessuno avrebbe potuto liberarlo. Paparesta sarebbe ancora lì come l'abate Faria, murato vivo nello sgabuzzino. Bene. Applausi. Grazie. 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 Grazie.